David, guarda! Ha le ruote! Le ruote? Cos'è questo posto? La nostra nuova casa. Abbiamo detto di volere un nuovo inizio. È questo. Papà coltiverà un campo gigante. Che bella giornata per ritrovarsi nella casa del Signore. Se siete per la prima volta qui con noi, alzatevi in piedi. Davvero una bellissima famiglia. È una gioia avervi qui. A tuo padre piace la nuova fattorea? Sta coltivando bene, fa le cose giuste? Sì. Sembra che i bambini americani non condividano volentieri le loro camerette. Ma a me non piace la ronna. Lui non è come loro. È un bambino coreano. La nonna puzza di Corea. Ehi! Hai detto che la nonna puzza! Andremo in rovina vivendo qui. Non hai pensato ai nostri bambini? Devono vedermi riuscire in qualcosa almeno una volta. Sparisci, bastardo. Nonna, tu non sei una vera nonna. Com'è una vera nonna? Cuoce biscotti, non dice parolacce e non si mette le mutande da uomo. Dobbiamo trovare l'acqua a tutti i costi. Se la terra non è umida, perderemo il raccolto. Ricordi cosa abbiamo detto quando ci siamo sposati? Che ci saremmo trasferiti in America e ci saremmo salvati a vicenda? Me lo ricordo. Guardatelo com'è carino, questo bimbo è tanto carino, tanto, tanto. No, io non sono carino, io sono bello.